che video faccio oggi andiamo a vedere un po' le news vediamo che ci sta allora trailer del film di shirobako e non se lo caga nessuno valete vergate non se lo caga nessuno dj non se lo caga nessuno Doraemon non mi interessa manco a me weathering with you ecco la ricetta del riso fritto di Ina ma io mi domando ma certi articoli ma chi cazzo se li legge proviamo ad ipotizzare insieme l'arrivo dell'anus on ocean chi se ne frega di Jojo secondo l'autrice di Beastars il manga è prossimo alla conclusione non se lo cagherebbe nessuno Ghost in the Shell il trailer non convince i fan a tante critiche alla CGI non se lo cagherebbe nessuno Demon Slayer i fan non riescono a smettere di confondere Muson con Michael Jackson mamma mia il nuovo progetto di Bleach debutterà nel 2021 ancora gente che pensa che ritornerà all'animo ma col cazzo che ritorna col cazzo che ritorna oh sto guardando tutti i cazzo di siti esistenti sulla faccia della terra non ci sono notizie ma notizie interessanti sì vabbè lo sappiamo tutti che Ore Gairu uscirà il 9 aprile ma più che altro non se lo caga nessuno un video in cui dico Ore Gairu 3 esce il 9 aprile Slime esce ad ottobre Slime 2 ma chi vuoi che se lo guardi mamma mia chi vuoi che se lo guardi chi vuoi che se lo guardi Kingdom non lo conosce nessuno l'anime non lo conosce nessuno ma dico io non ci sono anime troppo belli di cui parlare in sta stagione non ci sono manco anime bruttissimi a parte c'è l'entai qua non c'è nulla di cui parlare veramente sto per diventare un entai tuber altro che anituber nel 2020 qua non ci sono video da fare di anime non si può parlare più non c'è niente di cui parlare vediamo un po' i meme è stata cancellata la prima opening di Attack on Titan su YouTube con oltre 80 milioni di views a caso sarà un segno che cambierà lo studio ma chi vuoi che se ne freghi ma chi vuoi che se ne freghi e vabbè anche oggi si registra domani tu Ciao